La giornata di festa perché ha deciso di lottare per il proprio diritto, questa è una manifestazione di giovani, di ragazzi, che decidono di arrivare a Roma per tutta Italia per difendere il loro diritto da avere un lavoro. Una clausola sociale nel contratto serve a garantire che loro avranno un futuro e noi siamo con loro e lo saremo con loro. E' una bella manifestazione colorata, fettosa, di chi vuole avere una prospettiva e un futuro nella propria vita. Noi siamo con loro e credo che le forze politiche di questo paese lo devano comprendere. Ad astre di un segnale, non si può immaginare di governare quello che si sede citando la libertà di impresa come dogma. La libertà di impresa si interessa nei confronti del rispetto delle persone e della loro occupazione. E' un segnale che devono capire. Grazie a te.